Il menù di oggi prevede una prima portata golosissima, preparata dal re della pizza napoletana, Gino Sorbillo. Contornato da un trionfo di verdure, Gino prepara una pizza piena di torselle. Ingredienti 160 g acqua, 2 g lievito fresco, 7 g sale, 240 g farina 0 anche 200 g di tipo 0 e 40 g di farina integrale. Preprocedimento le torselle o cavolo greco sono simili ai più celebri friari e li. In alternativa, potete utilizzare altra verdura a foglia. Lessiamo per 2-3 minuti in acqua bollente e salata. Scogliamo e la ripassiamo con un generoso filo d'olio in padella, con aglio e peperoncino. Facciamo raffreddare.Sciogliamo il lievito nell'acqua. Aggiungiamo il sale e mescoliamo ancora. Uniamo la farina a pioggia, mescolando ancora con il mestolo. Quindi, formato l'impasto, lavoriamo con le mani per 15 minuti circa. Lasciamo lievitare il panetto ottenuto in una scatola ermetica per circa 8 ore. Con l'impasto lievitato, formiamo delle pagnottine di 250 g circa. Lasciamo lievitare nuovamente all'interno di un contenitore ermetico per 8-9 ore. Le pagnottine collasseranno. Stendiamo la prima pagnottina, appiattendo anche i bordi non dobbiamo avere il cornicione. Disponiamo al centro della provola. Copriamo con la torsella ripassata o i friari e li, mettiamo ancora del provolone piccante e copriamo con l'altro disco di pasta. Sigilliamo per bene i bordi, facendo uscire l'aria all'interno. Posizioniamo su una teglia, spennelliamo con dell'olio evo ed inforniamo a 220 grado per 18 minuti.